E' Tommaso Sonni, il candidato sindaco del centro-sinistra alla Mezzia Terme, terza città calabrese per numero di abitanti. Sonni, medico sostenuto dalla lista città reattiva, ha ottenuto 1.534 consensi sui 3.652 votanti complessivi delle primarie, superando così il candidato unico del PD Vincenzo Richichi che ne ha ottenuti 1.323. Più distanti gli altri candidati, Andrea Falvo 554 e Tonino Leone 241. È stata una campagna, ha commentato Sonni, molto ben organizzato, con una partecipazione di massa. Siamo stati una squadra di persone semplici, disponibili a mettersi al servizio della città e abbiamo vinto contro un partito che era ben organizzato. Tutto il comprensorio lamettino deve gioire di questa vittoria inclusiva, cioè non è la vittoria di la Mezzia, la mia non è la vittoria per la Mezzia, è la vittoria per tutto il territorio del comprensorio lamettino. Da questo momento dobbiamo rimetterci insieme con i sindaci degli altri comprensori, con tutto il centro-sinistra e con tutti i cittadini della Mezzia che ci hanno sostenuto in questa esperienza per cominciare a dare risultati finalmente visibili di novità alla città. Grazie per la visione!